Un modo per tenere vivi i contatti tra i cittadini eletti e i cittadini elettori, raccogliendo le istanze del territorio per dare ad esse la giusta eco romana. Questo lo spirito di quel winter tour che ieri ha portato anche a Nocera Inferiore il deputato del Movimento 5 Stelle, Angelo Tofalo. Contestualmente il referente territoriale Pasquale Milite, già candidato sindaco, ha consegnato una lettera aperta all'amministrazione comunale nocerina sollecitando l'attenzione verso alcune criticità territoriali ed offrendo collaborazione costruttiva pur non essendo il movimento grillino rappresentato in seno al Consiglio Comunale. Ogni weekend siamo qui per mantenere costantemente il dibattito aperto e per continuare lo scambio di informazioni tra il Parlamento, tra noi cittadini portavoce e cittadini sul territorio. La tappa di Nocera Inferiore entrava in questa del winter tour che stiamo girando un po' tutti i territori della Campania. Quest'estate abbiamo fatto un summer tour e abbiamo girato altrettanto i territori. Quindi sono qui per raccontare un po' il lavoro parlamentare degli ultimi mesi. E poi sono qui soprattutto per prendere le istanze dal territorio. Quindi è normale che non possiamo conoscere i problemi di tutti i comuni della Campania. Quindi veniamo qui. I cittadini in maniera molto significativa e molto importante stanno studiando insieme le problemi del territorio. Quindi l'obiettivo è produrre poi interrogazioni parlamentari, quindi carte, atti ispettivi, nero su bianco, da portare in Parlamento. Noi l'anno scorso abbiamo fatto in occasione dell'uscita del sindaco quando si è presentato alla città nel mese di novembre gli abbiamo consegnato una lettera dove c'erano su un elenco di domande venute fuori da un questionario redatto proprio online con la partecipazione dei cittadini dove abbiamo preso le domande più votate da parte di tutti e quelle più proposte praticamente e gli era stato consegnato. Alcune di quelle domande non hanno avuto ancora oggi assolutamente risposta. alcune iniziative invece sono state prese vedi quella sulla tutela del territorio con i lotti minimi apprezziamo lo sforzo anche fatto in tal senso però c'è ancora molto da fare e noi vogliamo ribadire che la nostra vuole essere una critica di stimolo non una critica semplicemente fatta per parlare esatta e farla morire lì. Quindi in qualsiasi occasione c'è un nostro intervento non viene fatto semplicemente per fare fuffa come diciamo noi in gergo ma per portare fuori un'iniziativa che sia collaborativa e partecipativa dal punto di vista popolare.